Cumprimenti, congratulazioni, grande soddisfazione. La soddisfazione è enorme perché avere un premio alla carriera e ovviamente assegnato da quelli che vengono dopo di te vuol dire un riconoscimento importantissimo da parte di quelli che comunque fanno questo lavoro e lo fanno molto bene. Ecco, meritatissimo, ho visto anche un figlio cammino premiato stasera. Eh sì, lui ha voluto seguire la mia strada, ci è riuscito a fare brillantemente sia come doppiatore che come direttore e anche stasera addirittura accumunati nella stessa serata in un premio così prestigioso e una grandissima soddisfazione. Grazie tantissimo, qualche anticipazione? Non ne posso fare perché ci sarà una cosa grossa ma ho firmato un documento che mi vieta di parlarne però naturalmente siamo nelle sale e nelle televisioni con tanto lavoro. Grazie tantissimo e complimenti, congratulazioni, grazie.